E io offro solo la migliore E io offro solo la migliore Cielo beato! Temevamo che il nostro mentore si fosse perso fra i vizi della grande città Vi accontento dei miei divizi, grazie Dunque, che cosa hai in mente, Ezio? Dimmi di più dei templari Li chiamate bizantini Tuttavia l'impero bizantino è stato abbattuto 60 anni fa Questi uomini sono gli ultimi rimasti legati alla causa dell'ultimo imperatore Costantino XI Chi li guidi adesso però, non so dirlo Capisco Immagino stia a me scoprirlo Ezio, dov'è la tua lama uncinata? Lama uncinata? Non la conosci? La porto da quando sono nato Mostrami come funziona Noi prendiamo gli strumenti che servono a chi lavora E la mia corazza è in grado di sopravvivere a chi le usa Pensa alla lama uncinata come un'estensione di te stesso, Ezio Di qua Qui, presto! Guarda un po', ma perché comportarsi come una sciglia? Presto, dobbiamo sbrigarci Credi che non possa farcela? Non ho neanche sudato Presto, dobbiamo sbrigarci Ottima esibizione Guarda un po' 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 Guarda e impara Ezio Lo chiamiamo aggancio e fuga Corri verso l'avversario E appena lo raggiungi Usa la lama uncinata per superarlo Corri verso l'avversario Corri verso l'avversario Corri verso l'avversario Corri verso l'avversario La normale lama uncinata ottomana ha due parti, vedi? L'uncino è la lama quindi puoi usare l'uno o l'altra Un progetto elegante Ti va una sfida più impegnativa? Sta bene, andiamo Perdonatemi Ti stai divertendo? Esatto, lascia che sia la lama uncinata a lavorare Molto bene Cerca di fare del tuo meglio Benvenuto a Costantini e Ezio Il crocevia del mondo Molti uomini hanno governato questa città Ma non l'hanno mai soggiogata Lei li ha sempre respinti Sembra un bel posto da chiamare casa Lo è Vediamo chi scende prima Allora Daniela Ai... ... ... ... Grazie a tutti.